Questo cos'è? Un compressore? C'è questo trasparente perché con questa qua devono abolire quell'occhio che c'è sui distributori col farfallino che gira per far vedere che esce. È obbligatorio far vedere che passa la benzina però non si sa quanto ne va all'eserbatoio. Allora avevano inventato questa che segnava propri litri che andavano all'eserbatoio. Era talmente precisa che non l'ho mai usata. Quindi vuol dire che anche adesso non si carica... Eh ma guadagnano troppo poco, guadagnano più niente. Vuol dire che anche adesso quello che paghiamo ci danno meno? Eh sì. Sì. Hanno 15 centesimi al litro, 15 centesimi lordi, per cui poi devono pagare la corrente, le varie spese. Oh caspita. E quindi sarà anche in quel modo lì. Questo qui cos'è? Per l'olio? Eh ma con quelli elettronici è molto più facile fregare che con quelli manuali. siccome avevano dentro si vedeva se era pieno o no. Ma invece quelli elettrici c'è il numerino che gira, ma poi la benzina va di lì o va di là? Eh. Ah addirittura ci potrebbe essere il dolio? Sì sì, fare un gioco dentro il distributore. Che bel compressore questo qui. Ma qui li ho messi perché questo è uno dei primi che ha la cinghia liscia. Eh. Però se questi non erano in linea, la cinghia usciva. Adesso invece che sono così non esce più la cinghia. Certo. Ecco io li trovavo in quelle condizioni qua. Mamma mia. Questo è diventato così qua. E quel modello qui. Ah lo stesso modello. Sì sì. L'ho messo lì a posto per far vedere. Per far vedere la differenza da come era conciato. Eh sì. Certo li metteva nuovo allora. Sì sì. Ebbè ma quel meccanico lì era bravissimo eh. Questa è la pubblicità della benzina senza senso. Se passa davanti, apre e chiude l'occhio quello lì. L'ologramma, sono quei giochini. Ah ecco davvero. Ah. C'era il 66, la Route 66. Che in America. Sì che c'è la Route 66. Sì. Che l'hanno. Questa francese come garanzia ha scritto benzina senza acqua. Ah perché l'allungava no? No ma perché nella cisterna si forma sempre un po' d'acqua per la condensa no? Sì. Solo che l'acqua è più pesata della benzina e quindi va sul fondo. Se il pescante è un po' più su. Sì. Non la prende la benzina. ma acqua. Quindi faceva un'ulteriore punizione. Sì. Caspita. Eh basta punirle spesso insomma. no ma anche se stai. no ma anche se stai. no ma anche se stai. Grazie a tutti.